Da oggi, primo marzo, l'ufficio 6 si trasferisce dal locale di Via Lungarno, qui presso il comune di Tranova Ciorini, presso la sede principale, al secondo piano. Pertanto questa è un'ottimizzazione del servizio in favore dei cittadini che potranno appunto vendere direttamente il palazzo comunale e avere la vicinanza appunto di questo servizio. All'interno dell'ufficio loro potranno svolgere tutte le modulisti che interessano appunto l'erogazione per quanto riguarda sia la cessazione, l'attivazione o la variazione dei rimborsi e ritiri per quanto riguarda i kit dei mastelli e dei sacchetti, tutto all'interno di questo ufficio. L'ufficio sarà aperto lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 1.30 e martedì e giovedì dalle 1 alle 4.30.